Una giornata importante per l'Aives e per tutto il paese. Oggi festeggiamo qui la nascita della nazione, la festa della Repubblica e lo facciamo con una cerimonia di particolare significato, con l'intitolazione di una piazzetta della nostra città a Falcone e Borsellino. Lo abbiamo fatto, c'è stata anche una collaborazione con la nostra scuola media che ha realizzato un progetto sulla figura di Giovanni Falcone e un modo per rinsaldare i valori che hanno animato Falcone e Borsellino, che erano i valori della legalità, dell'onestà, della trasparenza, del merito all'interno delle istituzioni. Questi valori erano importanti allora come lo sono oggi e ci devono guidare non solo nella lotta contro la mafia ma nel nostro lavoro quotidiano all'interno delle istituzioni, all'interno della comunità, della famiglia, ovunque. Grazie.